Ciao, bentornata o bentornato sul mio canale! Nel tutorial di oggi ti mostro ben 4 idee di lavoretti da fare con il DAS. Oggi saluto Viviana, Enzuccio Polpettina e Fabio Fortuna. Se vuoi essere salutato anche tu, lasciami la tua richiesta con un commento sotto a questo video. Se ti piacciono tutorial come questo, ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella. Per non perderti nessuno dei prossimi video. Ora passiamo al tutorial. Continua a guardare! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Se ti piace un tutorial come questo, ti ricordo che puoi iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Tu che tipo di lavoretti fai di solito? E se ti piace un tutorial come questo? Se vuoi essere salutato anche tu? Lasciami il tuo commento se vuoi essere... Grazie a tutti.